Ben trovati a tutti per questo speciale meteo in formato flash dedicato al tempo previsto per il weekend di ferragosto e che sarà caratterizzato principalmente da condizioni di tempo soleggiato e caldo per la presenza dell'alta pressione. Non dobbiamo però trascurare il fatto che le nostre regioni settentrionali verranno lambite da una corrente più umida e instabile legata alla circolazione atlantica che potrà dar luogo a qualche disturbo in più, soprattutto nella giornata di domenica. Dunque le previsioni in dettaglio, eccoli, aiutiamoci con la grafica. Guardate a sinistra i simboli meteorologici, a destra invece le piogge previste. La giornata rappresentata è quella di sabato 15 agosto che trascurrerà per buona parte soleggiata con qualche incertezza residua però al mattino sullo Triveneto riduce da un passaggio temporalesco notturno. Nel pomeriggio ancora sole praticamente ovunque con qualche annuvalamento cumuliforme però in montagna ma qui la probabilità di piogge rimarrà comunque bassa. Al più si potrà avere qualche isolato e breve rovescio di calore sulle Alpi orientali e sull'Apenino settentrionale. Come abbiamo detto farà abbastanza caldo tant'è che le temperature massime potranno raggiungere anche 34-36 gradi e nelle zone interne si avranno condizioni di afa moderata. Domenica 16 partirà con il sole poi però con il passare delle ore avremo un progressivo addensamento della nuvolosità a partire dalla fascia prealpina e pedemontana poi anche in Liguria e dal pomeriggio avremo rovesci sparsi ai locali temporali su Alpi, Prealpi, Appenino, Settentronali in estensione poi in serata anche a gran parte del Piemonte all'entroterra Ligura all'inizio da quello di Ponente e anche alla fascia pedemontana Lombarda. Sul resto dell'Italia invece la giornata rimarrà soleggiata e appena meno calda di quella di sabato con valori massimi fino a 33-34 gradi. Ebbene con questo è tutto, grazie per l'accortesa attenzione, vi auguriamo fin d'ora buon weekend e noi comunque ci sentiamo venerdì 14 per l'ultimo aggiornamento completo. Un cordiale saluto e a risentirci da Lucangelini.